Ciao, benvenuto nel magico mondo delle multifactory. Tu sei un nuovo membro di un multifactory e probabilmente sei rientrato a tratto da questo calidoscopio di persone, di attività che hai potuto vedere dentro a un multifactory. Questo breve video ti vuole dare due o tre indicazioni su che cosa è un multifactory e su che cosa non è. Può essere che tu sia stato a tratto, che ti sia avvicinato al mondo a un multifactory perché eri in cerchi di uno spazio. Può darsi che quello che ti interessasse era dare una casa alla tua azienda. Bene, questo è bellissimo, ci piace tanto. È importante però sapere da subito che una multifactory non è semplicemente una grande scatola divisa in tante piccole scatolette e la multifactory non è un modo per dare la possibilità a persone di avere un ufficio, un laboratorio, magari a un prezzo migliore rispetto a quello in mercato. No, la multifactory è un progetto di rigenerazione urbana. È un progetto di rigenerazione della società. Noi siamo Osun West, noi siamo gli iniziatori del modello e sviluppatori del modello multifactory, noi siamo i titolari del modello multifactory e noi siamo un'azienda purpose driven. Il nostro purpose, il nostro obiettivo è quello di rifondare la società su piccole comunità orizzontali di persone fortemente motivate e fortemente engaged nella propria comunità. Noi lavoriamo sui modelli orizzontali e il modello multifactory è questo. Il modello multifactory è un modo per fare business tutti insieme, in un modo anche gradevole, ma principalmente in un modo più efficace, più rispondente ai bisogni della società di oggi. Quindi il cuore della multifactory non è lo spazio, non è nemmeno la convivialità, che però potrete sicuramente vedere intorno a voi. Il cuore è il modello orizzontale, il cuore è essere tutti soci, essere tutti allo stesso livello, avere tutti in mano le redini di questo mondo che vi appartiene. Voi siete membri multifactory e siete coloro i quali guidano questa multifactory verso degli obiettivi, che sono gli obiettivi di business e degli obiettivi sociali. Questo è molto importante, tutto questo viene realizzato basandosi sul governance orizzontale e tutte le decisioni vengono prese dall'assemblea, tutte le decisioni vengono prese dai soci, tutte le decisioni vengono prese anche da te, dell'eterogenità, vedrete intorno a voi persone molto differenti e però se sono lì è perché avete qualcosa in comune, scopritelo. E' basata sull'approccio makers, l'approccio di chi ama fare, ama fare più che parlare. Qui quello che vige è la duocracy, chi fa ha ragione, non sempre, però ha più ragione chi fa e sbaglia che chi non fa. Fare significa essere responsabili e sentirsi responsabilizzati nei confronti della società, sapere che attraverso il vostro lavoro, il vostro lavoro quotidiano, il vostro lavoro come impresa, state e potete modificare in meglio la società. Noi creiamo il potere trasformativo dell'impresa e tutti insieme possiamo veramente rendere le nostre società un posto migliore. Speriamo quindi che essere dentro un multifattore vi dia la stessa energia, vi trasmetta la stessa passione che ha trasmesso a tanti altri prima di voi e che trasmette e che è sempre trasmesso anche a noi. Noi siamo qui per rispondere alle vostre domande, i vostri soci sono lì per rispondere alle vostre domande, avete tutto il tempo per entrare poco per volta all'interno delle dinamiche e delle logiche che non essendo basate sulla competizione, che non essendo basate sui sistemi verticistici, sono diversi da quanto si trova fuori da qui, azienza ci vuole un po' di tempo, però vedrete che alla fine questo mondo orizzontale, questo mondo basato sulla collaborazione vi darà molto. Vi diamo il benvenuto e speriamo che potrete essere dei membri felici all'interno della comunità del Multifactory.